Siamo con Claudio Zaccomer, responsabile vendita Vergella di D'Anguso Pettini. Un commento sulla fiera Wire Düsseldorf? Fino adesso la fiera è stata molto vivace, molto interessante. La fluenza fino al primo giorno è stata numerosa ed anche il nostro stand ha immediatamente accettato l'interesse dei visitatori. Abbiamo avuto molte richieste, molte visite, molti incontri. Interessante è anche la visita al nostro virtual box dove molti clienti hanno potuto vedere quello che sarà il futuro del nostro nuovo laminatoio a Verona in pridimensionale modalità virtuale. Bene, la fiera sta anche l'occasione per lanciare il nuovo brander aziendale. Cosa ne pensi? C'era bisogno, è stato molto interessante e utile da parte delle clienti per lanciare e veicolare il messaggio che qualcosa di importante sta cambiando all'interno del gruppo. L'azienda sta entrando in nuovi mercati, in nuovi settori, sta uscendo su nuove qualità di acciai, nuove qualità di Vergella e questo è molto importante e sia ben visibile anche da parte di tutti i clienti. Grazie a tutti!